buongiorno ragazzi buongiorno oggi siamo in park con ste bestie piccolo giollettino del giorno mantieni questo ve lo faccio vedere tanto feria ma vediamo andiamo a rullare come al solito a che c'è un po' la cazola a che c'è un po' la cazola a che c'è un po' la cazola Mamma mia che cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi 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 Mamma mia ragazzi